È morta all'ospedale San Marco di Catania la donna di 79 anni, ospite della casa di riposo di Modica dove si erano appurati diversi contagi. Sale il numero dei contagi nella provincia ragusana, sono 101 i casi aggiornati al 3 settembre e tra questi c'è anche un ragazzino di 15 anni. In nove si trovano ricoverati nel reparto di malattie infettive e due in terapia intensiva al Maria Paterno Arezzo di Ragusa Ibla, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Per la prima volta si registrano due case a Chiaramonte e Gulfi che fino ad ora era a quota zero contagi covid. I due soggetti sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Nuovo caso di positività anche a Comiso, comunicato sui social dal primo cittadino Marierita Schembari. Ho appreso ufficialmente dagli uffici dell'ASP di Ragusa che a Comiso è risultato un caso di positività al coronavirus. La persona interessata in isolamento domiciliare è in buone condizioni di salute. Le autorità sono al lavoro per tracciare la rete di contatti del nostro concittadino al fine di sottoporre familiari e amici ai necessari test. La prudenza e la calma sono indispensabili. Ogni allarmismo inutile è assolutamente ingiustificato. Vi terrò costantemente informati. Intanto i 53 migranti approdati ieri nel Ragusano, subito dopo i tamponi, sono stati fatti scendere in banchina e lì, controllati a vista dalle forze dell'ordine, sono rimasti fino a tardo pomeriggio, in attesa di sapere se tra i nuovi arrivi vi fossero casi di persone contagiate e a quel punto stabilire la destinazione finale. Due sono risultati positivi al covid e sono stati trasferiti ad altra destinazione, mentre i restanti 16 sono stati ospitati all'hotspot di Pozzallo. Intanto nelle ultime ore il sindaco di Modi, che gnazzabate tramite un comunicato, ha disposto la riapertura delle case di riposo da martedì 4 settembre. Naturalmente saranno visite ristrette e consentite ad un solo parente una volta a settimana, tranne che in casi speciali nei quali le condizioni di salute dell'ospite richiedono il contatto costante con un parente. Considerato che da più di due settimane non si registrano i nuovi casi di contagi, commenta il primo cittadino, vogliamo venire incontro alle legittime richieste di tutti quei cittadini che hanno parenti ricoverati nelle case di riposo. Il visitatore verrà controllato prima di accedere alla struttura e sottoposto a tutta la prassi del caso con la massima cura.